guardate che bel robot marrone giallo marrone azzurro giallo grigio oh salve signor robot guardate questo robot si può muovere agilmente ed è fortissimo un peso da 10 tonnellate guardate come lo solleva questo è un robot di strada grigio arancione verde grigio celeste guardate come viaggia agilmente su una sola ruota è molto intelligente e ha un sacco di informazioni nel suo cervello salve questo invece è un robot spaziale grigio rosa grigio blu guardate che bello il nostro amico robot scienziato lui viaggia per l'universo in cerca di nuove vite e alla scoperta di nuovi pianeti in cerca di nuove Grazie a tutti.